Queste beatitudini alla luce anche delle parole di San Paolo in questa lettera ai Colossesi invita a guardare le cose, così come Dio ce le mostra, come due realtà contrapposte, quelle sulla terra e quelle nel cielo. E qua sulla terra vige una legge che ben conosciamo, che sono leggi che fanno apparire come vincenti tutti coloro che impegnandosi seriamente o anche con grandi fortune, voglio dire, sulla vita terrena accumulano ricchezze e deridono, perseguitano chi non le ha e li sfruttano e chiudono il loro cuore in una situazione di materialismo, di sazietà e inevitabilmente di superbia e di arroganza. È molto difficile che un ricco rimanga immune da queste cose, sempre presumerà di avere forze sufficienti per vincere ogni ostacolo finché qualcosa non accade. Ora, quello che dice Gesù è questo tipo di persone sono coloro che meno conoscono Dio perché non hanno la povertà dello spirito e la povertà dello spirito è l'umiltà, il contrario è la superbia in questo senso qua. E c'è una persecuzione da parte di costoro per la parola di Dio, chi la professa e chi la proclama perché dice la contraddizione della loro vita, che non è buona e arrogante e non pensa al dopo. Guai a voi perché avrete già avuto la vostra ricompensa, beati voi che siete perseguitati dal costoro a causa del mio nome, no? E guai a voi quando tutti diranno bene di voi perché prima c'è il vostro nome infame, reso come infame perché siete credenti e quindi siete messi, no? Ridicolizzati, messi nell'angolo. Voi invece che avete tutto il mondo che dice bene di voi, guai a voi perché facciano così anche i vostri padri con i falsi profeti. I falsi profeti sono quelle voci del mondo che dicono ciò che è buono, ciò che vale ed ecco il plauso di tutti quanti, mi piace e dunque io sono nella vita giusta. Falso profeta cadrai nella rovina, avrete già avuto la vostra consolazione. Ma questa cosa dicevo con la lettera di San Paolo si comprende ancora più profondamente, San Paolo ha visto il mistero, lo ha contemplato perché è stato rapito al terzo cielo e ha visto bene le cose e dice, usa questa frase che è contraddittoria in se stessa se non si comprende nel modo spirituale. Dice, fratelli se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Noi non siamo risorti, potremmo subito dire, siamo qui che viviamo la vita mortale. Cristo è lassù perché è risorto alla destra del Padre, ma in realtà San Paolo poi lo spiega, parla dell'uomo nuovo e l'uomo vecchio. Allora c'è una parte di noi che non è risorta e che vive in questo mondo e chi vive nel peccato e quale vive nel peccato vive questa dimensione, si chiama l'uomo vecchio. L'uomo nuovo che è il Spirito di Dio ha dentro di sé un germe e uno Spirito che vede le cose con gli occhi di Cristo stesso che siede alla destra del Padre. Quindi San Paolo, in modo molto audace, dice, non parlo della resurrezione finale dei corpi, ma parlo del fatto che dentro di voi è risorto un essere che prima era morto perché vive in Cristo, quindi vive del Cristo risorto. Quindi voi partecipate del suo stesso Spirito di risorto che è dentro di voi ed è quello che vi fa fare la differenza, diversamente da quello che fanno gli uomini mondani, del giudizio delle cose. A che vale fare questo, a che vale fare quest'altro, è importante prendere, fare, possedere, godersela e tutto il resto, no? Sono stupidi quelli che cercano altre cose, gli idealisti o addirittura che rimandano tutto quanto al dopo, al regno dei cieli. Questo tipo di visione, che sembra naturale e ovvia, per chi ha lo Spirito di Dio non è più ovvia, anzi è naturale ma falsa, perché è vera fino a un certo punto qui in un regime sulla terra finché la vita dura. Ma chi è risorto con Cristo ha lo Spirito che contempla le cose di Dio e quindi con questa visione dall'alto giudica le cose che sono in basso. Noi abbiamo un occhio e una percezione spirituale che è differente non semplicemente perché crediamo a quello che Cristo ha detto, che è vero, ma perché partecipiamo del suo Spirito che ci fa vedere ogni giorno che le cose fatte così non vanno e non vanno perché vediamo con gli occhi dell'anima le cose come vanno bene, che sono quelle secondo Dio, secondo il regno di Dio, sì che noi abbiamo un piede sulla terra e un piede che già è in cielo. È per questo che San Paolo dice se siete risorti con Cristo, dopo c'è tutta quanta, allora ci sono delle conseguenze. Non adeguatevi al mondo, lasciate andare quelle cose non solo che gli altri fanno ma che un tempo facevate anche voi. Allora le liti, l'ira, le passioni, i desideri cattivi le sentite ancora dentro di voi. È il vostro uomo vecchio che partecipa del mondo, è il piede sulla terra. Ma il vostro piede che già è in cielo dice no io queste le rifiuto. Allora capite che il cristianesimo non è semplicemente un elenco di regole che chissà perché vanno seguite ma è ciò che io vedo e capisco ciò che è buono e ciò che è cattivo e lo rigetto. Chiaramente devo sempre fare uno sforzo interiore di repulsione del male ma lo posso fare perché vedo ciò che è male e ho la forza dello Spirito di Dio per fare il bene. Il contrasto prima di essere fra me e il mondo è dentro di me e vedo gli altri che invece sono presi da queste cose. Non devo giudicarle io ma devo anche discernere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Tutto dobbiamo giudicare dice San Paolo. In che senso? Non dobbiamo giudicare i fratelli per dire tu vai all'inferno perché sei cattivo e sono buono ma la tua condotta è cattiva e anche la mia un tempo era così ma ora che ho lo Spirito di Cristo capisco che è differente la faccenda e scelgo di stare da una parte e combatto in me stesso quei desideri cattivi a cui tu invece dai tutto quanto allo sfogo, via libera, li rinforzi, li segui come se non ci fosse nient'altro. Dunque la conseguenza del comportamento buono o cattivo della scelta fra bene e male è la conseguenza della coscienza che noi dobbiamo sempre più aumentare della visione di Cristo. Dice San Paolo in un altro punto che abbiamo la mente di Cristo. Noi possiamo dunque partecipare dello Spirito di Dio che vive in noi nonostante quello che noi siamo ed è per questo che alla fine dice rivestitevi dell'uomo nuovo e svestitevi dell'uomo vecchio. Non c'è più distinzione greco, giudeo, circoncisione, circoncisione, barbaro, scita, schiavo, libero, perché queste cose sono cose che passano. Quello che noi vediamo in noi e che vediamo riflesso negli altri è questa veste di Cristo che rende l'essere le persone in un livello completamente diverso e potremmo dire quello che siamo adesso qui sulla terra, povero, ricco, buono, cattivo, diciamo così ben inclinato, educato, non educato, intelligente, so. Tutto questo sono accidenti, sono piccole differenze che cadranno del tutto. L'importante è che noi teniamo fede a questa volontà di appartenere a Cristo risorto e indossiamo questa veste, quest'uomo nuovo che è in noi e guardiamo, come dice San Paolo, le cose di lassù, non le cose di qua giù. Guardando il cielo, giudichiamo la terra e sappiamo dove mettere i piedi. Se guardiamo solo le cose della terra, inciampiamo in ogni momento e non sappiamo dove andare, perché ci manca la grande stella polare. E la stella polare è Cristo, ripeto, che vive in noi e abbiamo la sua mente. Il mio pensiero deve essere rivolto a Lui. In questo modo sarò un pazzo per il mondo, sarò giudicato, ma io ho la certezza di essere con Cristo e che un giorno nella pienezza risorgerò anche con questo corpo e non solamente nello spirito. Se lo ha dato Gesù Cristo. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.